Buongiorno a tutti, sono la mitica R501, non so dove mi abbia portato il GPS, ma comunque non vi preoccupate perché c'è sempre questa qua, ovvero la grande cartina, cioè il vecchio metodo, comunque niente, qua ci sono dei paesaggi stupendi, nelle vedute, stiamo andando stamattina ad Asilà, che è una località di mare, dovrebbe distare 250-260 km da Fesse. Che belle spianate! Questo è il Marocco. I Grand Tassi sono sempre pronti per salire e ora vi saluto perché ho bisogno di un po' di attenzione.